Abbiamo parlato con l'assessore Ferrero del comparto agricolo della regione, abbiamo parlato con il presidente di Piemonte Land e adesso con Ezio Rivella vogliamo entrare nel vivo, nella parte più tecnica della vendemmia del 2016, vendemmia piemontese che a quanto dicono le confederazioni agricole pare essere stata straordinaria almeno per quanto riguarda i famosi standard di qualità. Sì, standard di qualità che riguardano il colore, riguardano la struttura, riguardano il grado alcolico ovviamente, riguardano il gusto, l'armonia, il profumo, insomma, vino, vendemmia veramente eccezionale, storica, come eleganza, come complessità, come veramente qualità, in senso lato del vino, questa credo sarà una delle vendemmie del secolo in cui stiamo entrando, insomma, ci siamo appena entrati, perché non gli manca niente, vini complessi, vini armonici, eleganti, perfetti, insomma, ne parleremo. Ecco, durante il nostro bellissimo dibattito che c'è stato con la stampa, gli addetti ai lavori, lei ha ricordato tante piacevoli annate per quanto riguarda i vini del Piemonte, ne ricordiamo qualcuna anche qui per i nostri utenti e poi parliamo dell'importanza della diffusione all'estero dei nostri vini piemontesi. Sì, vendemmie storiche, ci sono state tante, ma che ricordo io, dal dopoguerra in poi, ricordo il 45, il 47, il 57, il 64, il 90, il 95, insomma, veramente annate. Ma questa qui ha una marcia in più rispetto anche a tutte queste, insomma, è veramente una vendemmia eccezionale in senso lato. Allora, chiudiamo parlando dell'importanza dei nostri vini all'estero, abbiamo ricordato i dati, lo ha fatto il Presidente di Coldiretti Cia Confagricoltura, un trend positivo, soltanto pensate, lo dico ai nostri utenti, il 30% dell'export riguarda e si rivolge agli Stati Uniti. Dal suo punto di vista cos'è che conquista letteralmente dei nostri buoni vini piemontesi, cos'è che conquista? Ma, certamente sul Piemonte c'è questo retaggio storico che risale al secolo scorso, soprattutto insomma, in cui i vini piemontesi si erano affermati. Poi si era un po' perso questa affermazione iniziale, insomma, nel dopoguerra, insomma, abbiamo avuto un rilancio negli anni 80 e 90, gli anni d'oro dal 94 o al 2004 e poi questa veramente marcia in più in senso tecnico qualitativo che i produttori piemontesi hanno saputo dare quella svolta nelle produzioni, perché quando il vino era una bevanda, si beveva il vino, si beveva l'acqua, allora si cercava di farne molto perché la richiesta era abbondante, insomma. Poi invece si è capito che facendolo poco si aumentava notevolmente sull'equilibrio qualitativo, sul valore del prodotto e quindi è stata provvidenziale la svolta che soprattutto i produttori di Barolo in primis, insomma, ma anche tutti i piemontesi, per esempio il Barbera che era un vinaccio da osteria, insomma, si passa la sera bevendo Barbera, insomma, che poi non era neanche Barbera perché era vino meridionale un po' diluito con l'acqua, insomma, poi quando invece assaggiano questi Barbera nuovi, insomma, che sono molto più eleganti, molto più diversi da quei vini, bisogna tenersi al tavolo per poterli ingoiare, e adesso invece ci sono dei Barbera che sono strepitosi, che non hanno niente a invidiare a tutti, e il piedistallo è ancora da costruire per il Barbera, insomma, il Barolo invece c'è là, il Barbaresco segue, e tutti gli altri vini si stanno andando a fare, insomma, per seguire questo esempio luminoso che viene dal Barolo, insomma, prego. Musica 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 Grazie a tutti.